Ponte Vecchio, grande malato, dopo che il Tribunale ha dato ragione al Comune costringendo la Vardanega a pagare 453 mila euro di spese fideiussorie per il grave inadempimento del contratto d'appalto del Ponte Vecchio, il titolare Gian Antonio Vardanega, al quindicesimo giorno disponibile per impugnare l'ordinanza, si è mosso, contestando lo stato di consistenza, così come definito da Ruppi, responsabili tecnici del Comune, che hanno contabilizzato quanto fatto dalla ditta di Possagno in questo anno di cantiere e il relativo valore economico. Valutazione cui la Vardanega ha presentato obiezioni, ora la parola passa al collaudatore. Questo è un percorso che andrà avanti ancora perché è volto a capire quanto dell'anticipazione data un anno fa e più a Vardanega di 879 mila euro può essere trattata in un'altra Vardanega, quindi noi chiediamo indietro il 20% questo anticipo tranne quello che effettivamente è stato fatto perché è giusto che quello venga pagato. Questo rallenterà l'inizio dei nuovi lavori? No, questo non rallenterà perché le misurazioni che sono state fatte per capire il punto di ripartenza con la nuova ditta è assodato. La nuova ditta a cui si riferisce il sindaco Poletto è la Inco di Pergine Val Sugana, azienda a cui erano stati affidati già nel 2016 i lavori di restauro del Ponte Palladiano. Abbiamo avuto la percezione di una ditta molto sul pezzo, senz'altro molto veloce nel prendere il processo del cantiere e iniziare le prime attività. Dopo l'estate, incrociamo le dita, si parte quindi? Sfruttare bene l'autunno per tutte le operazioni preliminari, quindi approvvigionamento del legname, progettazione della tavola di fondazione, rilazioni in officine, lavorazioni che vanno fatte fuori dal fiume, in modo che a gennaio quando si entrerà in fiume sia pienamente operativi e si parte con il restauro delle prime due stilate. Grazie. Grazie.